Bentrovati, bentrovati ad un nuovo videotutorial firmato FabioAmbrosi.it Quest'oggi iniziamo a parlare di export, ovvero come esportare i video creati con Premiere per condividerli con i nostri amici, parenti e con chi vogliamo, in altre parole, via. Lo facciamo in maniera introduttiva, quindi se siete già esperti, questo non è un videotutorial per voi, è un tutorial dedicato a chi non conosce bene l'argomento, non ha mai esportato un video e sta muovendo i primi passi nel mondo dell'editing, quindi è veramente un corso base e i concetti che affronteremo quando parleremo di export sono veramente terra, terra, terra. Quindi se siete già esperti, probabilmente questo non è un tutorial che fa al caso vostro. www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'indice con gli argomenti di questo corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro. Però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi video e se vi fa piacere cercatemi su Facebook la pagina da cliccare, come sempre, ormai chi segue questo corso lo sa bene, è Fabio Ambrosi. Mettete un like e teniamoci in contatto anche su Facebook. Bene, iniziamo a parlare di alcuni concetti importantissimi e cominciamo dal concetto di container, contenitore. Cos'è un container? Parlando di file video, quando parliamo di container ci riferiamo sostanzialmente alla tipologia del file che ospita il nostro video. Quindi possiamo avere un mp4, possiamo avere un mov, possiamo avere un avi, possiamo avere un mpeg, possiamo avere quello che vogliamo. Il cuore del nostro file video è il codec. Il codec è un algoritmo che sostanzialmente comprime le informazioni e ci permette di trasformare il nostro video in 4K da qualcosa che altrimenti peserebbe 100GB in qualcosa che può pesare magari solo 7GB, 8GB, 10GB. Ora, esistono tantissimi tipi di codec. Ci sono quelli che sono senza perdita di informazioni e chiaramente genereranno dei file di pesi grandissimi. E poi ci sono i codec più comunemente usati, come in questo caso l'H.264 e l'H.265, che invece fanno un bel lavoro di compressione, riescono a mantenere una buona qualità del file pur comprimendolo notevolmente. È chiaro che non tutti i codec possono entrare in tutti i contenitori. Per esempio, l'H.265 e l'H.264 possono andare comodamente in un MP4, possono andare comodamente in un MOV, ma non credo che l'H.264 e l'H.265 possano entrare dentro a un file peg, per esempio. Così come il ProRes, che è un codec di ottima qualità, viene utilizzato spesso quando si creano dei master per la distribuzione, è un codec della Apple e, almeno che io non mi stia clamorosamente sbagliando, non credo che il codec ProRes possa essere utilizzato con un file AVI. Quindi diciamo che ogni codec può avere dei container che possono ospitarlo oppure no. Quindi è già importante capire che quando parliamo di MP4 parliamo del container e quando parliamo di codec parliamo del cuore di tutto. Chiaramente ciascun codec ha delle impostazioni proprie. Le impostazioni che troverete quando lavorerete con un ProRes sono differenti dalle impostazioni che troverete quando lavorate con un H.264 o un H.265. Ma i concetti fondamentali più o meno sono gli stessi. E il concetto fondamentale che dovete imparare quando parliamo di compressione e decompressione dei file è il bitrate. Il bitrate è la velocità dei bit, in altre parole, ovvero quante informazioni mettiamo ogni secondo per comprimere il nostro video. È chiaro, lo vedremo meglio nella prossima lezione quando lo faremo praticamente, che un video compresso a 10 megabit per secondo avrà molte più informazioni ogni secondo rispetto a un video con solo 1 megabit. Vi dico subito, ma ne riparleremo, che è inutile andare troppo in là. Non pensate che perché esportate un video a 100 megabit avete ottenuto una qualità molto maggiore rispetto a un video compresso a 15 megabit. Spesso e volentieri si arriva a un punto oltre il quale è inutile andare. Quindi bisogna anche essere furbi, non creare dei file giganteschi se non ce n'è veramente l'esigenza. Nella prossima lezione, nel prossimo video tutorial, apriremo Premiere e metteremo in pratica questi semplici concetti vedendo nel pratico concretamente come si fa ad esportare la nostra timeline su un file. www.fabioambrosi.it Lì troverete anche l'articolo di questa lezione se volete leggere anche qualcosina in più rispetto a quello che ho detto sull'export a livello teorico. C'è il mio canale YouTube, quello su cui mi state seguendo, iscrivetevi se vi fa piacere chiaramente, altri video arriveranno. E c'è la pagina Facebook, cercatemi su Facebook, cliccate Fabio Ambrosi. Al prossimo video tutorial, ciao! Ciao!